Un nuovo percorso espositivo dedicato ai colori del mondo antico all'interno del Museo Archeologico di Pestum. La mostra, aperta al pubblico fino al 30 novembre prossimo, fa parte di un progetto che coinvolge anche le scuole, con materiali digitali realizzati in collaborazione con la soprintendenza di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Lo scopo dell'iniziativa è di descrivere la città della Magna Grecia di Poseidonia tramite l'esposizione di diversi manufatti artistici, come le statue in terracottore costruite con stampanti 3D e dipinte con i colori originali, l'esposizione di lastre delle famose tombe dipinte, un filmato di cui è disponibile un trailer dedicato alla tomba del tuffatore. All'ingresso del Museo di Pestum è stato allestito il nucleo più colorato dove si possono toccare pietre e colori antichi, intonaci, malte e utensili. Un viaggio emozionante, insomma, alla scoperta dei colori perduti di alcuni dei tesori conservati nel Museo archeologico nazionale. Un progetto promosso dalla fila, nelle veste di novella mecenate, in campo culturale, per educare alla conoscenza e alla tutela del patrimonio archeologico. Colori nell'antica Pestum, vita dei colori e colori della vita, questo è il titolo scelto per il percorso espositivo. La mostra è il primo risultato di un più ampio progetto, colori nella storia, promosso e sostenuto dalla fabbrica italiana Lapis e Daffini, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici, che si propone di portare i musei all'interno delle scuole, grazie alla produzione e alla diffusione gratuita di materiali elettronici. Il progetto educativo verrà diffuso ampiamente nelle scuole e anche salernitane nel prossimo mese di settembre.